segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te la moratti per la donna di grande esperienza politica sa riconoscere la scopita infatti come si usa in casi come questi ha chiamato il suo più acerrimo nemico calenda no calenda è quello che la candidata ed è appunto se non è un nemico uno che ti fa una mano del genere comunque no la moratti ha chiamata fontana per governarsi con lui che già però scusami già un attimo era maiorino è quell'altro che è arrivato secondo lei è arrivata terza che cazzo chiama l'ha racquadata proprio il governatore della lombardia che ha detto questa cosa qui la tizia moratti mi ha telefonato sono riuscito a risponderle solo con un messaggio perché poi lei ha staccato ma chissà se aveva ancora la maschera cioè la tizia ha chiamato e ha subito messo giù poi ha staccato addirittura il telefono è come quando alle medie chiami una che ti piace poi ti pensi che cazzo ha fatto spegni il telefono comunque chi ha preso me